Solidarietà è con questa parola d'ordine che allo stadio comunale città di Arezzo sono scese in campo le ragazze Amaranto e la nazionale Attori per il Calcit. Non una partita qualunque infatti ma la prima edizione della partita dei cuori. Stiamo coronando una stagione importante che abbiamo fatto con il calcio femminile, con l'Arezzo calcio femminile quindi questo è un po' anche un coronamento di una stagione super dinamica interessante che abbiamo concluso proprio una settimana fa. Abbiamo volutamente coinvolto il Calcit proprio perché queste manifestazioni sono a scopo benefico sempre e con la nazionale Attori abbiamo deciso di devolvere tutto l'intero incasso appunto al Calcit proprio per la giusta causa che porta avanti da anni. Il pubblico aretino ha ovviamente subito risposto presente all'appello sugli spalti oltre 300 spettatori che con la loro presenza hanno permesso di raccogliere fondi a favore del servizio scudo. Un male, il male del secolo che in qualche modo anche noi scendendo in campo con loro speriamo di raccogliere più fondi possibili appunto per dare una mano concreta per aiutare questa associazione e combattere il male del secolo appunto perché è un problema che riguarda molte persone, quello del cancro.